di donna nella lobby si no 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 ho sbagliato ho fatto di donna nella lupi di donna a farinambi al posto della di donna a farinambi bellissima non lo sa nessuno o zero di back però passiamo ti voglio combattere la schiena di jogger c'è già costa 29 99 e ti danno anche i bax mille bax ma a sto punto prenditelo pure tu il coso di natale questo qua che che balla la scatola seduto seduta shaolin shaolin che è lo zombie vediamo quante cose posso sbloccare mi sembra che stai accessi pc ci sei la domica ok diamo una morissa facciamo coppia no dai cerchiamo di vincere la voglio fare coppia ebbè ci sono io vediamo ne facciamo una caso ma vabbè dopo allora metti la filata tu ce l'hai sei tu leader ce l'ho pure io a che livello sei anche tu 20 siamo bene esplici siamo anche io livello 20 guarda 20 e 20 buon 2020 a tutti ho messo pronto ok sto baggando la skin mi ora un botto di skin nel mio inventario c'è una marea c'è ora ci ho pensato fai ho fatto tutta la collezione la colazione ho fatto la colazione ma gli stai vedendo di nuovo i medici toc no 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 eccoci siamo qui ok ma tu il regalo natalizio dietro non ce l'hai no perché c'è la mia non ce l'hai che non lo volevo vabbè così erano uguali cosa ci sta mai ma questo è di star wars però no ma cosa è una cassiva poi fai che ci chiamano tutte e due ce l'ho chiamata tutte e due io sono io ho fatto a me bellissimo perché mi fa poca vita ogni volta che gioco qua non vediamo poca vita no no è baggato c'è i prodotti ma hai tutte le skin da lì ci troviamo la scuola che bella hai visto ci abbiamo le skin eh oh c'era bloccato oh ma io 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 ho chiamato da death pool death pool lui natalizio hai fai così luto fai così vediamo che ti fai io sei tu vai dove sei sono nella qua eccomi gira di gira di fa vedere tutte tutte il lotto vicino di più ti abbiamo dato di più a te sì sono un sacco di persone qui te lo giuro te lo giuro erano tutti qui ma io volevo fare e se lo creiamo noi uno di questo nella nostra creativa cosa nella mia creativa c'è vabbè per farla c'è vabbè per farla lo facciamo noi in solitario no perché devono esserci massimo tre persone uno che sfila e gli altri due che vabbè lo possiamo mettere anche pubblica no vabbè così per tenere c'è la bananina contro no questo mi si immaginato sta banana questo qua lui 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 se lui mamma mia se lui no no è la canzone si banana canzone ma non lo so se la trovi vada 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 da ninja da lui dove sei qua di b ludovica ma ci sono anche le moglie adesso ci sono anche le moglie che caspita il rumore la buona non ho fatto mi pare che vinci tu io sarò secondo terzo sicuro taggalo lui se lo ritrovi poi di gioco assai diventa marcio tipo si ammarcisce la banana questa qua sì ma come fai a come come fatto a trovare di quale si se ne ero ma chi non è quale che c'è io ci sono io ragazzi sono due sono tre persone no vinci tu sto giro no volevano vedere gli altri ma non sono riusciti che è sto rumore tu ci hai maniato sta banana ma c'è la spirapolvera sta usando te lo senti 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 tu 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 si maniato sta banana banana ok ora e se vuoi questo telefono devi pagare questo telefono costa 100 euro per natale c'è quanto vuole lo scondo per natale scondo c'è un euro c'è un euro c'è un euro accendere i baci di maniare stamana ma no che cazzo io schifo ma che non è vicino a me la la banana ma il gattino mi stanno chiamando chiede vuoi No! Ah, è Nuni! Nuni è giocato! Ciao! Sto giocando con... con la play C'è! Eh! Cosa? Dalla signora Eh? Sì! Mi sono comprato un copro dalla signora Sì! Mi sono comprato lei, la signora Aspetta, aspetta, aspetta Questo qua Cini di musica Questo qua Questo qua Questo Un cini di musica Si mi ha votato di più a me o agli altri Eh, stavo votando il cellulare Forse a te, forse L'ho votato Io c'è quello della coca cola Questo Questo qui Chi ci sono io? No No Beh, se è magnano sta bene Vai, vai, stiamo con lui Stanno salutando, vada, ciao Ma quando ci sono io? Aspetta Aspetta Insomma lo metto attaccato così Ci sono io, ci sono io Aspetta, aspetta Arrivo, arrivo, arrivo Allora Ciao ragazzi Nooo Nooo Faccio così Ma come male Vedete questo Vabbè, mentre che gioco lo lascio così Ok Ok E' molto Armi Jingle bell Jingle bell Jingle all the way Ah che hanno votato Che hanno votato A parità A parità A parità I like you Spirere le armi Come ho capito! Per armi Verre armi La vi ho capito, capito E' irmi Come mi sembra ci piacerebbe Che gira? L'ora? Puoi leggere? che è un vino a bello che sta ci sta sono qua eccomi allora questo faccio questo anche si mette eccomi sto giocando scaricatelo pure tutti stock aurora ora 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 qua c'è aurora in chiamato alla meloni si è luni aurora vuoi essere giunto pure tu no no così ci salutiamo si è dai aggiungi mangiarmi aspetta che ti abbiamo dato di più che mi ha dato di più aspetta poi ho trovato aspetta un attimo sto aggiungendo annuni che sta giocando si hanno ne ha scritto spogliato e poi ecco di ciao l'idea rica chiamato il mondo se non si sente lei aspetta che devo staccare ragazzi ciao 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 poi state votando ma le scarpe parata manata c'è anche aurora mi pare che c'è anche tu aurora vero mi ricordo mi pareva che ce l'avevi una volta ma le scarpe ma la schiena al terzo posto vai c'è a più un posto sono io non ci posso rivedere dai forse la banana e ha mangiato si mangiata sta banana ha vinto ho perso a benien Non mi piace, non mi piace Oh, gaccia